Credo che sia sbagliato dire, vabbè, tanto le scuole le puliscono gli alunni, i prati li tagliano i cittadini, eccetera, eccetera, perché così si sostituisce un servizio che dovrebbe, cioè credo proprio come principio che non possa, poi invece penso anch'io che sia utile proprio a tutti un maggiore coinvolgimento, ma non può essere... No, non deve diventare il lavarsi nelle mani, perché non possiamo accettare che le istituzioni si lavino le mani di quelli che sono i propri compiti, per cui è giusto coinvolgere i cittadini, anche perché crea effettivamente un senso di appartenenza al territorio, di contributo, cioè probabilmente il fatto che magari i cittadini si occupino di un'area può portarli anche a avere voglia di distruggere, per cui sicuramente è da facilitare, però comunque la responsabilità finale ce l'hanno le istituzioni che vengono appunto anche pagate con le nostre tasse esattamente per fornire questi servizi. Per cui non vale che poi il cittadino venisse fregato alla fine perché paga le tasse e poi deve ancora mettersi a fare i lavori. C'è una cosa che succede per esempio nelle scuole, cioè in tantissime scuole ormai sono i genitori che portano la cartigienica, il materiale, che vanno addirittura a dare la tinta, cioè un po' va bene, però allora voglio dire o lo fai e mi fai pagare meno tasse, allora lo posso capire, ma se lo fai e poi mi aumenti anche le tasse tutti gli anni, c'è qualcosa che non torna.